quel tipo di gioco che abbiamo provato a fare il primo tempo. Allora, Carta Canta e poi Milan News. Hai già parlato dell'episodio successo in panchina, quindi sei tu il più amareggiato di tutti. Mentre parlando di campo, che sì, giustamente sostituito fino a quel momento, non aveva giocato al meglio, preso in mezzo tante volte da Vecino e Perisice e non hai riuscito a dare quantità, forza al centrocampo mentre hai recuperato la grande Bacayoko. C'è qualcosa che... A me non mi interessa se uno gioca bene, gioca male, perché ci può stare con giocatori e può sbagliare una partita. Non vado alla ricerca di questo. Io vado alla ricerca che quando si prende una decisione, quando si prende una scelta, non facciamo il cinema, perché se no si parla... A me non mi piace parlare al muro, ripeto, in questi giorni dopo parlerò comunque di dovere, sentirete anche il mio pensiero, perché adesso non voglio parlare, perché ripeto, io credo fortemente in questa roba qua. Ieri mi avete fatto la domanda sui carti, vi ho risposto. E oggi che è venuto fuori? Superigio è venuto fuori un po' la stessa situazione, perché non posso accettare che anche se uno è nervoso, gioca male o gioca bene e non dà la mano a compagno. Qua non siamo all'Asilo Mariuccio, qua c'è mancanza di rispetto a una società gloriosa, c'è mancanza di rispetto alle persone che lavorano all'interno di questo gruppo, c'è mancanza di rispetto di tutto. E sinceramente io sono molto deluso, sono molto deluso, perché fare quel cinema che... E per fortuna che non l'ho visto, perché ero preso dalla partita, perché se no mi buttavo anche nella mischia e facevo qualche figuraccia anche là. Però non va bene, non va bene perché, ripeto, sono arrabbiato, sono deluso, ho detto quello che dovevo dire e dopo in questi giorni ne saprete di più.